Buongiorno a tutte, due brevissime note autobiografiche così come la richiesta. Cominciamo dal nome, il mio nome è Matilde Cesaro, sono nata a Napoli ma mi definisco una nomade lavorativa, il che ha i suoi vantaggi perché mi consente di approcciare continuamente realtà nuove con cui avere uno scambio, un confronto devo dire molto molto arricchente. Sono docente alla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari e sono anche una formatrice con un presente di Life e Corporate Coach. I libri sono da sempre miei compagni fedeli, mi definisco una lettrice onnivora e anche un po' infedele, però sono disponibile a ritornare sui miei passi e a completare quello che a volte lascio a metà e non sempre per incuria. Credo che ogni libro possa essere considerato come una grande casa, una dimora dalle molte stanze in cui i lettori si ritrovano e sfogliano pagine e cercano parole, riflessi significativi della propria vita e le incontrano a volte sotto forma di epifanie, di enigmi ma anche di misteri. Un libro può essere definito, può essere anche immaginato come una dimora a più stanze per accogliere le molte storie e non solo quelle inventate. Fra le sue pagine scorrono immagini che possono essere rappresentate come delle miniature autobiografiche sia per raccontarsi e sia per raccontare. Raccontare un libro è un accesso autobiografico importante, lo facciamo attraverso le parole, le consuetudini narrative che però rappresentano un codice unico che parla di noi, che dice di noi a volte anche in modo del tutto inconsapevole. E raccontare un libro autobiografico, quindi anche una storia di vita, significa unire le storie fino a farle combaciare, significa dare valore alle differenze nel riconoscerle e significa anche avvicinare l'altro mentre scopro parti nuove di me. Ma significa al contempo dare valore a ogni più piccolo episodio e trasformandolo in un tutt'uno significativo. Difatti un testo autobiografico è cassa di risonanza ma anche una riflessione caledoscopica di esperienze, di emozioni e bagaglio di vita vissuta o ancora da vivere, sono domande le cui risposte sono nel cammino intrapreso, quindi nella scrittura che si fa pagina via via nello scorrere, ma al contempo sono cedimenti, sono miracoli di svelamento, sono inciampi. Un libro contiene tutta la nostra millenaria storia.